Le baracche nel quartiere Chicolo di Luanda sono state costruite per controllare le navi merci cariche di materiali da costruzione pagati con il petrolio. Il petrolio è la fonte principale di ricchezza dell'Angola e paga anche l'ondata di nuovi cantieri e la scoperta di altri giacimenti di petrolio. Per questo Luanda è diventata la terza città più cara al mondo. Ma gli abitanti delle baracche non conoscono tutta questa ricchezza, vivono in povertà, senza elettricità, senza acqua, circondati da spazzatura, inquinamento e malattie. Nell'ultimo anno a Luanda è scoppiata la peggiore epidemia di polio dal maggio 2005. Il direttore generale dell'UNICEF Anthony Lake, il presidente del programma mondiale salute della Bill e Melinda Gates Foundation Tashi Yamada e l'assistente del direttore regionale per l'OMS Africa, Macidiso Moeti, hanno visitato il paese per chiedere un nuovo impegno politico per sradicare la malattia. Nella municipalità Cacuaco la delegazione ha visitato la famiglia Anzongo. La loro figlia di 18 mesi ha contratto la polio ed è rimasta paralizzata. Angola ha, in effect, defeated polio five years ago, and then it was reimported here, and now, because it has broken out in Angola, especially in Luanda, it is now spreading into neighboring countries. So, what is being done in this community is both very important for the children of the community, and we saw one child who has been partially paralyzed by polio, but every human tragedy here in Angola is a threat to the whole world. La chiave per eliminare la polio sono i vaccini. La delegazione ha visitato la clinica Villa da Pazzi in Cacuaco, che ospita oltre 40.000 persone, provvede all'assistenza sanitaria e alla copertura vaccinale garantita dal rispetto della catena del freddo per la conservazione dei vaccini. La sconfitta del virus dell'apolio, dipende dal coinvolgimento di tutti i settori della società e, in particolare, dalla comunità degli operatori sanitari volontari. La delegazione ha incontrato il team degli operatori presso la clinica. Un volontario della comunità degli operatori sanitari, Paolino Jao Sebastio, ha contratto la polio durante la guerra civile e ora cammina zoppicando. Ha bussato alle porte di tutti i suoi vicini per essere sicuro che tutti i bambini fossero vaccinati e dormissero sotto le zanzariere. La delegazione ha incontrato anche il presidente dell'Angela, Edoardo Dos Santos, che ha accettato di essere a capo della campagna vaccinazioni e di assicurarsi che sia condotta con efficacia. L'impegno è stato ripreso anche da ministri, viceministri, governatori, società civile e settore privato, che hanno accettato di collaborare insieme. E questo potrebbe essere una salvezza, una vita più sana, non solo per i bambini dell'Angola, ma per tutti i bambini del mondo. Grazie!